bene ciao a tutti bentornati in un nuovo video benvenuti sul mio canale se il primo video che vedete oggi andremo a parlare di un argomento secondo me molto utile soprattutto per i principianti che è come scegliere come valutare una pianta prima dell'acquisto e possibilmente acquistare una pianta che ne valga la pena allora come vedete sono qui in mezzo tra il pino che ho comprato quest'anno ad arco bonsai il pino che ho comprato l'anno scorso ad arco bonsai uno dei miei aceri de shojo e magari durante il video vi farò vedere anche altre piante che ho nella mia collezione questo per cercare di darvi più esempi possibili poi io non ho tantissime piante non ho tutti gli esempi possibili e immaginabili però è per cercare di darvi un'idea quindi cosa andremo a vedere in questo video andremo a vedere le caratteristiche che deve avere un materiale pre bonsai o bonsai ma più che altro pre bonsai per poi diventare un domani da pre bonsai a bonsai per essere lavorato per essere in grado di subire tutte quelle lavorazioni che più o meno stressanti che portano un materiale dall'essere pre bonsai a bonsai finito vedremo anche le differenze di prezzo che ci possono essere e da cosa sono influenzate queste differenze di prezzo tra i vari materiali sperando di darvi una guida il più completa possibile su come acquistare con testa e con metodo diciamo un materiale che poi vi possa dare della soddisfazione nel lungo periodo prima primissima cosa da guardare e da considerare è l'essenza la specie del bonsai che vogliamo andare a comprare in questo caso io cercavo una conifera che fosse un tasso che fosse un cipresso che fosse un pino perché sono quelle piante che tecnicamente ti insegnano di più nel mondo del bonsai rispetto alle latifoglie da qui punto fondamentale che dobbiamo andare a considerare quando scegliamo appunto una pianta da comprare e quando guardiamo il prezzo della pianta da comprare l'essenza gioca un ruolo fondamentale nel prezzo più o meno alto della pianta diciamo che andiamo tendenzialmente da essenze meno pregiate che possono essere olmi lecci querce una via di mezzo in realtà più che altro quelle piante crescono spontaneamente quindi che sono molto facili da coltivare quindi olmi olivastri piante che sono di facile attecchimento di facile reperibilità sicuramente avranno un prezzo inferiore rispetto a un pino che per farlo attecchire raccolto te ne muore 99 su 100 o ad esempio a un acero de scioggio come questo qui questa è una piantina veramente piccola comparata a questa qui ma con una piantina del genere è capace di costarvi 100 euro come niente perché perché è un acero de scioggio non perché abbia particolari caratteristiche del piede del tronco della ramificazione semplicemente perché si chiama acero de scioggio alla qualità della foglia che vedete è spettacolare è una foglia che fa un rosso fuoco in primavera ed è bellissimo cioè ragazzi veramente secondo me forse la varietà più bella che esista nel mondo del bonsai si presta benissimo diventare bonsai però cresce in giappone è una cultivar che è stata selezionata in giappone e quindi deve essere importata con tutti i costi annessi connessi dell'importazione e del fatto che comunque è una pianta che qui da noi non si trova una pianta rara una pianta diciamo premi tra virgolette all'interno del bonsai quindi se voi trovate un acero de scioggio di queste dimensioni e un olmo di queste dimensioni l'olmo vi costa 10 euro l'acero de scioggio ve ne costa 100 altre piante diciamo premium sono sicuramente le azalee le azalee hanno prezzi esorbitanti per spesso il pezzo che sono soprattutto all'interno delle azalee poi si differenziano ulteriormente perché ci sono delle cultivar particolari di azalea che sono più pregiate di altre quindi avranno un prezzo maggiore rispetto alle altre lì poi bisogna entrare proprio nel dettaglio un po come negli aceri palmati vi ho fatto vedere l'acero palmato varietà de scioggio che è quella forse più richiesta più ricercata di più alto prezzo ma abbiamo anche gli shishigashira che sono un'altra varietà molto molto pregiata un altro esempio ce l'ho davanti voi non lo vedete ma è il ginkgo biloba altra pianta molto rara che si trova non con così tanta facilità e i pezzi che si trovano soprattutto quelli belli con una bella base con un minimo di ramificazione costano tranquillamente sopra i 500 euro talvolta anche sopra i mille e quindi capite come in base alla specie che vogliamo andare ad acquistare il prezzo cambia notevolmente da materiale a materiale quindi una volta appurato che io cercavo una conifera sono andato chiaramente a selezionare all'interno delle 2000 probabilmente di più piante che erano presente in vendita ad arco bonsai sono andato a studiarmelo un po e mi è capitato sott'occhio questo pinoco perché mi ha colpito una volta che avete selezionato la specie che cercate bisogna andare a valutare come primissima cosa se acquistate un pre bonsai la base ragazzi la base il piede o nebari è il punto di spicco di quasi tutte le piante lavorate a bonsai eccetto forse i bunjin che sono quello stile literati che conta più il movimento del tronco è uno stile un po più artistico però nella stragrande maggioranza degli stili quello che conta è la base il nebari in questo caso il nebari lo vedete l'avete visto anche nel video precedente in cui facevo vedere che cosa ho acquistato questo secondo me è una pianta spettacolare mi ha colpito tantissimo il piede il piede è un piede a raggera quindi che si espande per bene parte dal tronco scende si allarga in tutte le direzioni quindi anche qua dietro di qua di qua davanti esce così quindi quella è una caratteristica che fa alzare sicuramente il prezzo ma fa alzare anche il valore intrinsico del materiale quindi se voi lo acquistate a un prezzo maggiorato sicuramente se lo lavorate se lo fate ramificare se lo migliorate poi questo prezzo si mantiene non è un valore che acquistate di più e poi indomani vi si perde se la pianta un bel piede sicuramente acquisirà sempre più valore man mano che la lavorere viceversa qui è un mini ginchino vedete questa a meno che proprio di non farci dei lavori particolari non avranno mai un bel piede a raggera che esce e quindi chiaramente vabbè qua ho preso proprio un esempio terribile però era per farvi vedere che il piede gioca sicuramente un ruolo fondamentale nella scelta del materiale da acquistare e nel prezzo anche del materiale terza cosa che sono andato a guardare appurato che avesse un bel piede sono andato a guardare che avesse una buona conicità cosa vuol dire buona conicità vuol dire che la pianta il tronco della pianta man mano che sale diventa sempre più stretto senza grosse interruzioni ora qui c'è un'interruzione un po' importante dove c'è questo taglio qua non è un grossissimo problema perché comunque si tratta di una conifera una sempre verde si può piegare si può mascherare si può fare un gin quindi non è un grosso problema nel caso invece avesse avuto un bel nebari ma fosse stato un cilindro dritto quindi qui passiamo anche alla quarta cosa da guardare che è il movimento del tronco quindi se fosse avesse avuto una bella base ma fosse stato un cilindro dritto così con un taglione segato così comunque non l'avrei scelto non l'avrei scelto perché il fatto di non avere conicità e avere un grosso taglio dritto così un tronco senza movimento è sicuramente penalizzante sono tutti elementi che vi abbassano il valore della pianta sia economicamente ma sia anche esteticamente quindi un domani la potete lavorare ma non arriverà mai a un livello di una pianta che ha una buona conicità e un buon movimento del tronco abbiamo parlato della conicità abbiamo introdotto anche la quarta cosa da guardare che è il movimento del tronco perché movimento del tronco vedete il tronco sale di qua sale di là poi torna di là e fa tutti questi movimenti qua il movimento del tronco non è essenziale per questo lo metto forse al quarto posto di importanza perché ci sono sicuramente degli stili ad esempio l'eretto formale che non ha bisogno di movimento del tronco dal momento in cui su questo tipo di stile qua hai un bel nebari una buona conicità non avrai bisogno del movimento e avrai comunque una pianta secondo me è molto molto bella l'eretto formale secondo me è uno stile che viene sottovalutato a me piace moltissimo ed ha proprio l'idea della maestosità dell'imponenza di una pianta di un bonsai di un alber alla fine quinta cosa da guardare in un bonsai in un pre bonsai che acquistiamo è la ramificazione la metto al quinto posto perché secondo me è l'aspetto meno importante forse da guardare quando acquistiamo una pianta soprattutto se acquistiamo un pre bonsai questo perché la ramificazione si può sempre costruire io sono di quest'idea qua in un materiale come questo che è grezzo c'ha letteralmente due tre rami non sono andato a guardare la ramificazione perché perché aveva già tutti quegli elementi che sono andato a guardare in precedenza quindi essenza che cercavo bel nebari tronco conico movimento del tronco e quindi il fatto che non avesse rami ho detto vabbè a questo punto li costruisco io non ci sono problemi perché una volta che hai questi primi 3 4 elementi hai una pianta che potenzialmente costruendola negli anni puoi ottenere qualcosa sicuramente di alto livello e pregiato in ogni caso una pianta sulla quale ho considerato questo quinto elemento quindi la ramificazione è stato questo pino qui fino a che ho acquistato ad arco dell'anno scorso e come vedete ha già un buon livello di ramificazione è venuto fuori veramente veramente una bellissima pianta secondo me all'epoca cercavo un pino anche l'anno scorso questa pianta qua mi è piaciuta perché ben nebari tronco super conico perché vedete qua non ha neanche un taglio parte grosso alla base e arriva con la singola gemma qui in alto senza interruzioni perfettamente muovendosi così ed è già ramificata c'è già un buon livello di ramificazione quindi quando l'ho scelta ho detto ok è una pianta che magari non ha un tronco enorme però che cosa ha di buono ha una buona base ha una buonissima conicità ha una buona ramificazione e allora sono tutti elementi che mi hanno fatto scegliere questa pianta per l'acquisto sesta cosa da guardare in una pianta il vaso a dire il vero il vaso forse è una delle cose che andrebbero guardate prima del del sesto posto soprattutto se acquistiamo piante finite quindi se acquistiamo bonsai se acquistiamo pre bonsai il vaso è da guardare proprio come ultima cosa secondo me anche perché saranno in vasi da coltivazione che non ci interessa però in questo caso qui ho guardato anche il vaso ho detto che il vaso è anche bello perché è un vaso in realtà smaltato ma di un colore particolare non è un vaso giapponese non è un tokoname però comunque era un bel vaso quindi un elemento che ho detto va bene può incidere nel prezzo però su bonsai finiti magari che hanno un vaso di pregio vasi da 500 600 800 euro chiaramente va valutato anche il vaso nel prezzo poi di acquisto altro elemento da considerare collegato al vaso è il substrato substrato che non metterei all'ultimo posto perché il substrato gioca un ruolo fondamentale nella salute della pianta che è un altro punto da considerare il substrato è molto importante infatti quando ho acquistato questo pino la prima cosa che ho chiesto prima del prezzo prima di tutto ho chiesto in che substrato fosse se fosse stato raccolto da tanto tempo o da poco tempo perché un pino in attecchimento io non lo compro quello sicuramente e non compratelo neanche voi questo è un pino che è stato raccolto anni e anni fa in questo vaso da più di due anni quindi sono tranquillo da quel punto di vista però avevo paura che sotto ci fosse la zolla originale quindi terra di campo terra di bosco comunque terra impaccata terreno non granulare che non lavora bene per il bonsai quindi sono andato a chiedere quello mi hanno confermato che è in terreno granulare in pomice la pillo è stato rinvasato più di due anni fa mi manca quello un elemento da considerare ho visto ad arco ma vedo anche in giro a volte piante a prezzi buoni veramente buoni molto scontate ma che sono in zolla sono letteralmente dentro una zolla di terra e questo cosa vuol dire? vuol dire che voi la dovete rinvasare dovete rinvasare probabilmente a radice nuda e quindi un rischio rischiate che la pianta vi muoia o comunque vi perda a vigore perderete comunque un anno di coltivazione perché dovete rinvasare la radice nuda fare cambio substrato aspettare che la pianta riprenda a vigore e dopo con molta calma iniziare a lavorarla a bonsai quindi anche il substrato gioca un ruolo fondamentale nella scelta del materiale da acquistare e anche nel prezzo del materiale perché chiaramente una pianta che vi viene venduta in zolla raccolta dal campo non può avere lo stesso valore della stessa pianta però in substrato granulare in un vaso idoneo quindi non lasciatevi fregare se vedete delle belle piante bel piede bel movimento ma dentro una zolla di terra argillosa grossa così e vi chiedono 1000 euro fatevi abbassare il prezzo quantomeno ultimo elemento da considerare ma non per importanza forse avrei dovuto metterlo al primo posto è la salute della pianta la salute della pianta è imprescindibile nell'acquisto di una pianta perché capite se acquistate una pianta con dei patogeni che non ha vigoria magari non vi sta facendo le gemme e siamo in primavera non vi sta facendo nuovi getti siamo in primavera ha dei rami secchi ha delle parti devitalizzate eccetera andateci molto con i piedi di piombo e valutate sempre magari come prima cosa la salute effettiva della pianta su questo sono andato sul sicuro c'è delle candele lunghe 20 cm mi sta facendo dei nuovi getti dal legno dal legno vecchio qui, qui davanti a livello di salute sono tranquillo poi è in un buon substrato è concimata perché si sente l'odore del prodigi quindi da quel punto di vista lì sono tranquillo che sia una pianta in ottima salute un altro punto da considerare per l'acquisto del materiale è sicuramente la legna secca se il materiale lo permette chiaramente io non andrei a cercare della legna secca su un acero o su un olmo o su un ginko cioè sono caratteristiche che sono proprie del materiale la legna secca di solito la ritrovate sulle conifere sugli olivastri a volte sui lecci è una caratteristica che è un po' più di nicchia per questo magari la metterei in fondo o comunque come cosa marginale nella scelta di materiale poi se siete appassionati di legna secca potete metterlo chiaramente è come tra i prita le prime caratteristiche che deve avere il vostro materiale anche lì la legna secca cambierà il valore della pianta in base al fatto che sia stata lavorata non sia stata lavorata sia stata lavorata da un maestro da un professionista che ve l'ha resa un'opera d'arte sostanzialmente perché la legna secca quando è fatta bene è come una scultura è come il David di Michelangelo è una scultura che deve essere fatta da persone competenti perché se una legna secca è lavorata un po' così grossolanamente avrà un certo valore se è lavorata una persona competente che ve l'ha invecchiata ve l'ha sabbiata ve l'ha resa in armonia con la pianta chiaramente la pianta acquisirà tutto un altro valore altro fattore che influenza il prezzo di una pianta è sicuramente la dimensione questo non vuol dire che le piante più grosse siano più belle o debbano per forza costare di più perché anche uno show-in se fatto bene con un bel piede e una buona conicità e tutte quelle caratteristiche che abbiamo visto può avere un valore molto molto alto però c'è da dire che tra uno show-in con tutte le caratteristiche giuste e una pianta di 60 cm con tutte le caratteristiche giuste il prezzo sarà sicuramente maggiore della pianta più grande perché a parità di qualità la dimensione nel bonsai comunque conta tendenzialmente piante più grosse costano di più piante più piccole costano di meno bene quindi direi di avervi portato tutte le caratteristiche da considerare per l'acquisto oculato di una pianta di un pre bonsai o di un bonsai chiaramente io ve l'ho messo in un certo ordine ma quest'ordine può variare in base alle esigenze personali e anche in base al tipo di pianta che si ricerca perché se uno cerca un bonsai finito il livello di ramificazione che io ho messo tra gli ultimi posti passa sicuramente in primo piano se uno cerca una pianta a portare in mostra il vaso che io ho messo tra gli ultimi posti sicuramente sale in primo piano senza ovviamente prescindere tutte quelle caratteristiche del nebari del movimento della pianta della corteccia eccetera diciamo che in linea generale se cercate un bonsai finito le cose da guardare sono molte molte di più che se cercate un pre bonsai le cose essenziali per il pre bonsai sono le prime che ho detto chiaramente in un bonsai finito invece entrano in gioco anche altre cose ad esempio lo spessore dei rami come si raccordano i rami al tronco la conicità dei rami rispetto alla pianta quindi i rami più bassi devono essere più grossi quelli più alti più fini chiaramente tutta una serie di fattori che più si cerca una pianta avanzata ed elaborata più diventano importanti nella scelta del materiale bene spero con questo video di avervi portato un po' di informazioni in più di avervi aiutato magari a scegliere una pianta da acquistare grazie come sempre a tutti per essere rimasti fino a fine video noi come sempre ci vedremo in un prossimo video in cui magari andremo a lavorare il secco di questo pino qua e dai spero di vedervi presto sul mio canale io e le mie piante come sempre vi salutiamo e speriamo di rivedervi presto ciao a tutti